Buongiorno a tutti, scusate ma oggi è domenica, mi sono appena svegliata, mi sono data giusto un po' di trucco però devo ancora fare colazione quindi il viso lo andrò a toccare dopo però ho detto che devo registrare subito prima di uscire il video in collaborazione con le fashion youtubers perché appunto poi lunedì c'è una nuova collaborazione con loro e dovevo ancora registrare un video ne avrei voluto registrare più di uno perché questa volta c'era la possibilità di parlare di più cose ma ho avuto poi problemi, mi si è infiammato di nuovo il nervo sciattico quindi sono stata abbastanza ferma ho dovuto lavorare tanto nonostante il male quindi un po' un casino comunque veniamo a noi, intanto io ho deciso di fare in generale il video sui preferiti di autunno non beauty quindi non parlo di trucchi, non parlo di niente ma parlo di accessori o cose allora innanzitutto vi faccio vedere una cosa che alla fine saranno due che io adoro nel periodo autunnale subito dopo appunto quando inizio a fare quel freschino e sono o le babbucce che io di solito praticamente in casa giro sempre o scalza a piedi nudi o con delle calze leggere anche nel periodo estivo ecco forse magari nel periodo estivo ho più le infradito in casa ma se no scalza totalmente ovviamente appena inizia ad arrivare un po' il freddo comunque a me le ciabatte non piacciono però queste qui è un buon compromesso perché sono, a parte che sono anche da lavare si buttano in lavatrice tranquillamente però sono fatte tipo a calza quindi voi non le perdete perché poi io magari mi siedo sul divano appoggio le ciabatte vicino e ciao me le perdo quando poi mi rialzo dal divano le ciabatte stanno là quindi o mi metto un paio di ciabatte per ogni stanza o questa è la soluzione in modo che così possiate averle sempre addosso sono molto morbide e comode queste qua le ho prese da Primark ma le trovate un po' dappertutto altrimenti un'altra cosa che adoro in inverno sono le calze pelusciose che infatti l'ho tirata via dal mio piede e con queste ci dormo tutta notte e ci vado anche in giro per casa sono stra morbide sono proprio, ho visto che ci sono anche da Lidl prossimamente sono stra morbide, stra comode le butto in lavatrice 30-40 gradi, vengono pulite le cambio almeno ogni due giorni perché comunque le uso quando poi arrivo a casa tiro via le calze normali, mi metto subito queste ci cammino per casa ci dormo a letto quindi ogni due giorni le cambio due giorni massimo perché a volte le cambio se le porto tipo tutto il giorno tipo la domenica che sono a casa tutto il giorno poi le cambio alla sera comunque sono stra comode io ve le stra consiglio le ho anche regalate come regali di Natale perché le trovo una coccola per i piedi e un caldo assurdo un'altra cosa poi quando è autunno che non deve mai mancare sono le mie super sciarpone questa qua tra le altre quest'anno va stra di moda l'Animalier quindi eccola qua leopardata, maculata però con i toni del beige e dell'azzurro acqua e la adoro anche perché inizia quel freschino quel venticello un po' fastidioso che io ho di nuovo mal di gola di conseguenza queste mi salvano la vita una coccola e le trovate poi spesso al mercato a pochi soldi un'altra cosa che ho acquistato l'anno scorso ma c'è di nuovo che adoro 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 quando è autunno perché vi permette di avere sotto un maglioncino ancora in cotone e di uscire però o alla mattina presto o alla sera senza battere i denti ed è questo super giubino qui quelli un po' trapuntati blu a pua che avevo preso l'anno scorso da chiavi ragazze se lo trovate o anche online ordinatelo perché non costa tanto io lo butto in lavatrice a lavare ed è perfetto mantiene la larghezza mantiene la lunghezza non si restringe l'imbottitura non si impattacca su ed è la fine del mondo veramente stavo cercando eccola qua un'etichetta per dirvi qualcosa in più comunque per carità è tutto 100% poliestere quindi non è poi dicono anche loro di lavare in casa a 30 gradi è tutto 100% poliestere non è questa grande qualità però voi non potete cioè chi ce l'ha sa la comodità di questo giubino è molto comodo molto morbido non per niente pesante appunto infatti adesso io ho questo maglioncino qua in cotone e sopra poi mi metterò quello lì e so già che anche ce l'avevo anche ieri sera che sono andata a cena si stava veramente bene veramente bene in più è talmente leggero che io spesso lo arrotolo e me lo leggo in vita quando fa troppo caldo tipo si entra nei centri commerciali o che quindi non sono quei giubini troppo ingombranti fastidiosi e io l'ho adorato fin da subito peccato non averne comprato due tipo un altro colore per dare il cambio perché quando questo lo metto a lavare sono disperata non so cosa mettermi l'ultima no la penultima cosa che vi faccio vedere è questa o meglio una candela quando è autunno che cominciano a chiudersi le finestre io adoro infatti ne ho una l'ho accesa la vedete che c'è la luce adoro accendere le candele e lasciarle andare per ore e ore e ore questa è la nuova di Ikea mela e cannella è buonissima trovo che in estate siano un po' uno spreco perché con le finestre aperte la candela profumata magari già non fa tanto profumo di suo tendono ad andare tutto fuori mentre quando si cominciano a chiudere le finestre adoro avere un profumo in casa diverso che sia la candela che sia anche i profumatori quelli naturali oppure il brucia essenza mi piace da morire l'ultima cosa che vi faccio vedere è questa borsa qui che l'ho appena ritirata fuori proprio ieri è una borsa fatta così a tracolla ma la bellezza è che diventa anche zainetto oltre a tracolla grande e tracolla corta fa anche da zaino perché ve la mostro perché nel periodo estivo ho sempre le pochette piccole oppure le borse a spalla poi con l'arrivo dei giubini io non so voi ma faccio fatica a tenerle perché o scivolano o magari il giubino tipo quando sarà inverno il vuric è troppo grosso quindi non riesco a tenerla a spalla mi trovo molto molto comoda con questo qua un po' per discorso tracolla un po' perché almeno se devo fare due passi me la metto sulle spalle a mo' di zaino e sono a posto ecco ragazzi questo è quanto vado a fare colazione ah come al solito vi lascio poi il link di tutte le ragazze che hanno partecipato nel box insomma nell'info box vi lascerò anche il link del gruppo in modo che se qualcuno avesse voglia di partecipare insieme a noi a queste cose a queste cose a questi video possiate contattare direttamente Fortuna e la nostra capitana ecco e niente comunque quindi tutto troverete sotto nell'info box date un occhio e mi raccomando andate anche a dare un occhio agli altri video buona domenica